Ciao a tutti, sono Diana Toto e sono una stilista di moda. Con il metodo togliadoro mi diverto a realizzare gli abiti su misura e in base al mio stile li personalizzo e quindi do ampio spazio alla creatività. Ma con questo metodo molto facile per realizzare i cartamodelli su misura ci metto veramente pochissimo tempo e poi do spazio alla mia creatività quindi li posso personalizzare come voglio. Per esempio questo abitino così con questo colletto con le frange l'ho realizzato con questo cartamodello qui. Come vedete è un bellissimo tubino, molto bello, semplice e io l'ho personalizzato in base al mio gusto e alla mia creatività. Quindi con questo tutorial vi voglio dare anche degli esempi un po' così creativi per personalizzare i vostri abiti. Vi faccio vedere come in poco tempo potete realizzare un cartamodello con le vostre misure. Bastano solamente due misure, circonferenza seno e circonferenza fianchi e con il kit taglio d'oro, il cofanetto che trovate nel sito di taglio d'oro www.taglio d'oro.ch potete creare tutti i cartamodelli che volete. Nel cofanetto ci sono 280 modelli e poi ci sono le riviste che escono ogni 3 mesi. Quindi sono riviste stagionali piene di abiti, capi, comunque di tendenza straordinari. E questo è il metro speciale che vi consente di realizzare i vostri cartamodelli su misura avendo solo appunto due misure, quindi circonferenza seno e circonferenza fianchi. E questo modello che vi presento oggi è della rivista 318 ed è il modello 252. dietro trovate i cartamodelli, quindi ho fatto una fotocopia e poi ho realizzato il cartamodello che mi interessava. Quindi fate una fotocopia, ritagliate tutto e poi con il metro vi andate a sviluppare tutte le misure qua. Adesso vi faccio vedere come fare. Buona visione! Questi sono i cartamodelli, questo è il davanti contrassegnato con la lettera A e il dietro contrassegnato con la lettera B. Quindi dalla vita in su, vita complesa, mettete la circonferenza del seno e sotto la vita mettete quella dei fianchi. E poi c'è anche il giro collo alto che vedete contrassegnato con la lettera G. Quindi vado a fare la fotocopia e poi vado a ritagliare i cartamodelli che mi devo sviluppare. Questo è il figurino e sotto il figurino trovate le misure indicative del tessuto che vi occorre per realizzarlo. Quindi vado a mettere la puntina sul numero della circonferenza del seno e poi faccio ruotare il metro tutto attorno alla fotocopia del cartamodello. In miniatura me lo riporto sulle misure reali. Grazie a questo metodo facilmente posso realizzare i miei cartamodelli su misura. Quindi poi quando vado a fare i punti sotto metto lo spillino sulla circonferenza dei fianchi e mi vado a sviluppare i punti sotto. Con i righelli in acrilico che trovo sempre sul sito di Taglio d'Oro, tra l'altro in offerta con il cofanetto, mi vado a unire tutti i puntini. Quindi così facilmente come un gioco di animistica mi vado a sviluppare il cartamodello e mi vado a riportare tutte le linee e i segni che ci sono nel cartamodello in miniatura. Quello della fotocopia appunto. Quindi tramite tutte queste curvature diverse, i righelli sono due, con curvature diverse, mi vado a segnare tutti i profili del cartamodello e poi lo vado a ritagliare. I cartamodelli di Taglio d'Oro sono senza margini di cucitura, quindi poi li dovrò aggiungere dopo. In questo caso per praticità li aggiungerò sul tessuto stesso, lascio solo un centimetro come margine di cucitura. E userò due jersey di due colori diversi, quindi uno nero e uno rosso, perché farò dei giochi, insomma, trasformerò un po' il modello in base ai miei gusti. Lo farò un po' più particolare. E quindi questo è il tratteggiato che delinea la parte che va poi doppiata con uno sbieco. Poi vado a fare il dietro, quindi allo stesso modo come ho fatto il davanti, mi vado a segnare tutti i puntini intorno al disegno e poi li vado a unire con i righelli. Dopo aver segnato tutto il profilo del cartamodello, poi mi vado a riportare i vari segnali. e metto una X dove c'è la puntina. Questa X mi indica l'inizio della pence, in questo caso, quindi spesso è indicativo di alcuni punti, fa riferimento ad alcuni punti da sviluppare sul cartamodello. e poi vado a segnare la pence e segno anche la lunghezza approssimativa della pence. Mentre sul davanti è la metà del quarto del cartamodello davanti, che appunto è un quarto del girovita totale, quindi la metà del davanti. E questo è il girocollo. E come vedete c'è una croce e quindi la puntina andrà messa in questa croce qua, ovviamente seguendo sempre la circonferenza del seno, quindi la misura sempre della parte alta, perché in base a dove si trova il cartamodello voi poi andate a mettere la misura giusta sul metro. Quindi la puntina andrà messa sulla circonferenza del seno e poi mi vado a riportare tutte le misure che ci sono proprio in quella direzione là, quindi sul davanti in questo caso, e sono proiettate così sul davanti. Quindi mi vado a riportare tutti questi puntini, li unisco e viene appunto la metà del colletto, quindi in questo caso il tessuto dovrò metterlo piegato a metà, quindi su due metà, quindi saranno quattro strati di tessuto perché devo mettere il davanti e il dietro del colletto, del girocollo, in questo caso girocollo alto. E questi sono i cartamodelli ritagliati. Ora porterò delle modifiche molto semplici da fare per cambiare un po' il look a questo abito, quindi per personalizzarlo, perché con i cartamodelli di taglio d'oro è molto semplice anche poter fare delle modifiche e personalizzare gli abiti e i capi in generale in base ai nostri gusti. Quindi per prima cosa vado ad unire i fianchi con uno scotch carta per poter fare un disegno decorativo e in questo modo unisco i fianchi in modo che poi il disegno viene continuativo, quindi da fianco a fianco. e vado a fare uno zigzag un po' asimmetrico, quindi non uguale davanti e dietro e quindi vado a prendere le misure, super giù lo zigzag è largo 11 centimetri. Quindi vado a fare questo disegno e poi lo andrò a ritagliare. Ma prima di tutto poi stacco i fianchi ovviamente, perché poi i cartamodelli appunto mi serviranno per tagliare il tessuto che sarà messo in doppio col centro davanti e il centro dietro unito, quindi tagliato il tessuto tagliato solo dal fianco, quindi dal laterale. Quindi mi vado a ritagliare le parti del patchwork, userò due colori di jersey, quindi jersey nero e jersey rosso per fare lo zigzag patchwork e poi per fare anche il girocollo alto. E adesso mi vado a tagliare tutte le parti del tessuto che poi devo andare ad assemblare. Quindi ho tolto anche lo spacchetto dietro, che appunto non mi serve perché il tubino lo faccio unito. E questo è il girocollo, ho lasciato 11 centimetri giù per fare poi questa frangia, tagliando queste strisce di tessuto di un centimetro circa. Poi vado a tagliare le parti del tubino, quindi quelle parti nere, quindi il sopra e il sotto in questo caso, e vado a lasciare un centimetro come margine di cucitura e poi lascio 11 centimetri sopra. che poi andrò a fare altre frangie che si andranno ad annodare col girocollo facendo un effetto girocollo frangia. E questa è la parte dello zigzag, quindi scrivete sempre il centro davanti e il centro dietro, nei cartamodelli anche quelli a zigzag perché poi vi serviranno per capire dov'è la parte del tessuto che va unito. che sul taglio d'oro sono contrassegnati con le lettere VM e HM. E vado ad unire queste strisce zigzag con la parte quella nera, quindi vado a far combaciare tutti i zigzag sia sopra che sotto. Mentre per il colletto, prima lo unisco lateralmente, quindi queste strisce di tessuto dritto con dritto, le unisco tutte e due lateralmente e poi le metto una dentro l'altra e le vado a cucire tra di loro. Così il girocollo verrà addoppiato e le frangie saranno ancora più vigorose perché comunque saranno due strati di tessuto quindi l'effetto frangio sarà ancora più ricco. Quindi le metto una dentro l'altra e le vado a cucire insieme nella parte sopra mettendo il tessuto dritto con dritto. E dopo aver unito il sopra, quindi la parte sopra, vado a rigirarla e vado a fissarla lungo la linea delle frange, quindi prima che inizino le frange. Poi vado ad assemblare il tubino, quindi la parte davanti con il dietro, la unisco lateralmente. Ovviamente prima ho chiuso le pants sul davanti, le ho tratteggiate col gessetto e poi le ho chiuse con un punto dritto. Quindi adesso vado a fare un punto dritto lateralmente e poi lo vado a rifinire con la taglia cuci. Dopodiché vado ad unire il colletto alto con il tubino, quindi con le frange del tubino sopra che erano nel giro collo e le vado ad annodare tra loro, faccio due doppi nodi. E poi ho rifinito la parte del giro manica facendo un doppio giro di mezzo centimetro e un punto dritto. Quindi continuo ad annodare la parte davanti e ovviamente la parte dietro, quindi quella della contrassegnata con la cucitura del giro collo, va sul centro dietro. Quindi in base a questo io mi regolo sulla posizione del colletto alto. E quindi vado ad annodare tutti i laccetti davanti e dietro. Vado a controllare che tutti i laccetti siano attaccati tra loro, quindi con questi doppi nodi, sia davanti che dietro. E poi l'abito è finito. Ho fatto sotto il bordino di due centimetri con il punto dritto. Quindi ho fatto un doppio giro e poi ho fatto un punto dritto. Poi prendo uno scampolo di un metro e trenta per settanta centimetri, lo piego in due e faccio queste strisce. Così con effetto frangia. Vado a tagliare le frange quelle che vanno appunto sulle spalle. Quindi le vado a tagliare che mi servono poi per infilarmi questo coprispalle. E poi faccio il bordino sul giro manica di mezzo centimetro. Quindi faccio un doppio giro e faccio un punto dritto. E così facilmente mi sono realizzato un coprispalle che posso abbinare a questo tubino. Ed eccolo qua. Quindi ho creato un tubino praticamente in base al mio stile e ai miei gusti. E facilmente mi sono realizzata anche il coprispalle abbinato. E tutto questo l'ho potuto fare grazie ai cartamodelli di taglio d'oro. Quindi che ti permettono facilmente di poter realizzare i tuoi abiti su misura. Con solo due misure potete fare i cartamodelli come delle vere professioniste. Con il tessuto jersey ho potuto realizzare facilmente questo completo. E il tessuto elacidizzato mi consente anche di non mettere zip. Quindi di poterlo poi infilare anche comodamente. E' anche facile poi da realizzare. Poi si possono fare queste frange con la tecnica dei nodi. Che è una tecnica che io uso già da un po' di tempo per realizzare i miei abiti. E anche per trovare soluzioni carine e fare questo effetto frange. Che in questo modo con il collo alto fa un effetto collana. E' molto originale. Poi il coprispalle si può usare anche come cintura e anche come sciarpa. Quindi comunque lo potete usare in modi diversi. E l'ho realizzato in pochissimo tempo senza bisogno di cucitura. E come vedete il gioco del patchwork zig zag gli dà un tocco di design a questo abito. Quindi lo rende ancora più fashion e originale. Vi è piaciuto questo video tutorial? Allora mettete il pollice in su e condividete questo video per farlo conoscere anche a chi vi avvicina un po' Vi mando un forte bacio. Grazie mille. Seguitemi anche nei social e mi trovate sempre come Diana Toto. Un bacione. Ciao alla prossima.